Tre giorni di sport declinati in ogni sua disciplina, 40 società sportive aderenti, oltre 30.000 partecipanti fra Via Le Trieste, Palla di Pomodoro e Baia Flaminia nella festa di Pesaro Challenge, che la sua quarta edizione ha richiamato sul lungomare migliaia di bambini e ragazzi con i loro genitori per approcciarsi allo sport e chissà invogliarsi a continuare qualche pratica da settembre in avanti. Ho un figlio qui che gioca a basket e mia moglie è andata con l'altra figlia a vedere se ci sia qualche sport che gli può interessare, quindi è bello questo aspetto che ci sono più sport da vedere, che le persone possano anche sperimentarsi e vedere cose nuove, perché no? Un Pesaro Challenge che ha visto presenti anche testimoni all'eccezione come l'ex calciatore di Lazio e Chievo, Cristian Manfredini, o il detentore del record mondiale di triathlon consecutivi, Tommaso Fusco. Non c'è un consiglio, bisogna essere adatti per lo sport, c'è chi è adatto a fare calcio, chi è adatto a fare palla a volo, l'importante è comunque fare sport e stare insieme, quindi io consiglio ai ragazzi di fare sport, a me mi ha dato tantissimo, essendo un ragazzo di colore mi ha dato la possibilità di crescere, di essere sicuro di me stesso, quindi consiglio allo sport per stare insieme, per essere più sicuri. Lo sport è una cosa importantissima, dà tanto sudore, ma anche tantissima soddisfazione. Questo è molto importante perché insieme allo sport si possono fare anche belle cose, raccolte fondi e quindi non è mai qualcosa a sé stante, è sempre qualcosa in cui viviamo la nostra individualità nello sport, soprattutto in questi sport che sono individuali, non a squadre, ma anche il senso di comunità, il senso dello stare con gli altri e raccolte fondi. Quindi è una bellissima iniziativa, mi fa molto molto piacere essere stato invitato. Non solo bambini, presenti anche attività di educazione cinofila dedicate agli amici a quattro zampe. Ieri abbiamo partecipato per la prima volta con il nostro cane che si chiama Whisky, è un piccolo maltese ma è andato nella gara dei meticci ed è arrivato primo. Mia figlia è stata molto contenta, è stata una bella soddisfazione. Tre giorni in cui sono anche state distribuite 4.000 challenge card. La challenge card è stata davvero un'idea interessante per rendere la manifestazione unica, fare in modo che genitori e figli avessero uno stimolo per provare almeno 19 discipline e portare a casa ovviamente un bel ricordo, un gadget della manifestazione oltre che un premio più importante del nostro main sponsor.